Allora, è bellissima emozione, siamo davvero contenti per questa vittoria e portiamo questo trofeo per i nostri tifosi e per la nostra società. Sono davvero felicissima, non posso spiegare come mi sento in questo momento e andiamo adesso a fasteggiare per questo secondo trofeo Io dall'inizio, io dall'inizio lo sapevo perché questa squadra è fortissima e fantastica quindi lo sapevo dall'inizio. Stasera fa la differenza il gruppo perché questo gruppo è fantastico